l'autolavaggio di tom ehi rocky stai facendo qualche lancio di prova? bene, divertiti sembra vada bene oh 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 mamma che casino devi portare rocky all'autolavaggio di tom charlie bene, siamo arrivati rocky va avanti con tom ti preparerà lui dunque tom qual è il piano? grande idea ecco qua va già molto meglio e adesso cosa viene? ci sono moltissime opzioni di pulizia pronto per una pulizia profonda rocky? bene quegli spazzolini da denti giganti serviranno allo scopo e adesso un buon risciacquo porterà via tutto il sapone abbiamo quasi finito rocky wow rocky sembri ancora meglio di prima non dimenticare il tuo dolcetto pronto a tornare alle prove di lancio? grande ciao tom grazie per tutto il tuo aiuto ciao rocky buon viaggio e ciao amici arrivederci alla prossima l'autolavaggio di tom ehi la baby tom come sei carino stai aspettando tuo papà per uscire a cena insieme? ti piace proprio fare le bolle con il chewing gum eh? meglio fare attenzione però quelle bolle possono diventare molto appiccicose quando scoppiano oh oh tuo padre non sembra molto contento baby tom sembra che avrai bisogno di una ripulita prima di poter andare da qualsiasi parte da che cosa si comincia tom? gli spruzzatori per bagnare baby tom? sì logico adesso cosa avviene tom? preparati ad essere insaponato baby tom che solletico vero? la che cosa avviene Spugne! Buona scelta, Tom! Se si usassero le spazzole potrebbero rimanere attaccate alla gomma! Abbiamo già visto qualcosa di simile, baby Tom! Bolle, bolle, bolle! Ora ti serve un buon risciacquo! Ecco fatto! Non c'è più schiuma! Aspetta un attimo! Tom, c'è ancora molta gomma da masticare sulla carrozzeria di baby Tom! Come la toglierai? Oh, hai un nuovo apparecchio per questo tipo di sporco? Facci vedere! Forte! Mattarelli giganti! Sarai spianato come un impasto da torta, baby Tom! È stupefacente! Il chewing gum è sparito! Ora è il momento dell'asciugatura! E l'ultima fase! La lucidatura! E per finire, indovina! Profumatore al chewing gum! Bel lavoro, Tom! Ora baby Tom è pronto per andare a cena! Arrivederci a tutti! Alla prossima! L'autolavaggio di Tom Ehi, Steve! Stai facendo un ottimo lavoro rendendo belle lisce le strade di Car City! Che cosa c'è? C'è catrame appiccicoso su tutto il tuo rullo? Oh, mamma! Sarebbe meglio andare all'autolavaggio di Tom a farti ripulire! Oh, cavolo Steve! Guarda che pasticcio stai facendo! Dietro di te! Andiamo subito da Tom! Veloce! Ehi, Tom! Steve è coperto di catrame nero appiccicoso! Pensi di riuscire a ripulirlo? Sì? Stupendo! Andiamo dentro! Qual è il primo passo, Tom? Il getto d'acqua? Ok! Facciamolo partire! Qualcosa non va? Non pensi che l'acqua fredda sia in grado di lavar via il catrame? Beh, hai un'altra idea? Acqua calda! Grande idea! Ok, vediamo se funziona! Useremo anche del sapone! Di che tipo? Extra forte? Chiudi gli occhi, Steve! Il sapone te li farebbe irritare! Puoi aprirli adesso! Sei pronto per andare avanti con il lavaggio? Sì? Ok, procediamo! Ok, procediamo! ora ci sono le spazzole come ti sembra ton? pensi che dovremmo strofinare steve più forte? va bene tom vai pure tranquillo steve tom vuole solo essere sicuro che ci sbarazzeremo del tutto di quel catrame appiccicoso mmmm steve wow non ti ho mai visto così pulito è ora di tornare al lavoro ben fatto tom attenzione al catrame wow per un pelo a presto steve grazie tom alla prossima l'autolavaggio di tom ciao ragazzi cosa state facendo state fermando chi corre troppo sembra divertente attenzione oh santo cielo non ti preoccupare baby matt l'autolavaggio di tom ti ripulirà completamente e ti farà tornare al lavoro con tuo padre in pochissimo tempo vieni eccoci qui vai avanti con tom ti preparerà dunque tom cosa ne pensi ci sono tanti modi per pulire oh mi chiedo cosa faccia questo divertiti questo è spettacolare cosa c'è dopo tom mmmm interessante sei pronto per il passo successivo baby matt andiamo questo ti farà tornare splendente è ora del risciacquo e dell'asciugatura benissimo è l'ora del grande risciacquo baby matt un'ora del risciacquo baby matt ebbone avanti riscrizati un'ora del risciacquo baby matt eggone avanti risciacquo baby matt che torna la torta sulle divino un'ora del risco pulito e scintillante! come ti senti? grande idea! ritorniamo da tuo papà ehi Matt! guarda chi è tornato a dare una mano ciao Harvey! hai portato un regalo! com'è carino da parte tua ciao ragazzi arrivederci! resta pulito baby Matt gran bel lavoro oggi! ci vediamo la prossima volta Tom! l'autolavaggio di Tom! che cosa sta succedendo qui? sembra che Jerry e Marley stiano osservando qualcuno da dove è spuntata Katie? dal ponte? sembra che sia il turno di Jerry ora wow! allora è così che aveva fatto Katie! beh per te sarà facile Marley stupefacente è saltato sopra di loro oh oh! che cosa è stato? oh no Marley! guarda in che stato ti sei ridotto! hai bisogno di una bella lavata! non ti importa di essere infangato? beh sembra che tu abbia bisogno di Tom in ogni caso! quindi magari potresti andare al suo lavaggio lo stesso! ehi Tom! Tom! Marley ha un problema! potresti venire al ponte! tranquillo Marley! Tom sarà qui da un momento all'altro! grazie per essere venuto Tom! ci vediamo all'autolavaggio Marley! che ti piaccia o no? Tom deve toglierti tutte le alghe in modo che tu possa guidare di nuovo ma ti servirà una risciacquata prima Marley che c'è? preferiresti continuare le tue corse fuoristrada? allora questo ti piacerà più di quanto pensi! vai amico! è uno scivolo con getti d'acqua! eccolo che arriva! è stato divertente? te l'avevo detto! adesso è tempo che Tom ti tagli via tutte quelle alghe! al salone di bellezza! ehi Tom! pronto a cominciare a tagliare? sembra che facciano il loro lavoro! come vanno le cose Tom? le alghe sono andate via ma è ancora coperto di melma? mi dispiace Marley ma dovrai fare un bagno prima di andare da qualsiasi altra parte stai qui mentre Tom lo prepara sembra rilassante ma andiamo a recuperare Marley adesso oh signore! qui abbiamo un monster truck molto infelice ehi stai sorridendo sembra che ti piaccia stare nella vasca da bagno fai con comodo c'è molto fango da far sciogliere ehm Marley? è tempo di uscire adesso ah! adesso vuoi restare nella vasca? mi dispiace ma Tom ha un altro cliente dopo di te magari la fase di asciugatura ti rimetterà di buon umore prima che tu vada ah si come ah 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 tom dice che adesso puoi tornare dai tuoi amici a mostrar loro altri trucchi beh c'è una prima volta per tutto chi avrebbe mai pensato che tu tra tutte le auto avresti preferito restare a fare il bagno tutto il tempo bel lavoro tom non solo hai ripulito marley ma gli hai fatto anche amare il momento del bagno